ciao a tutti da tiger siamo nel capitolo 2 di resident evil 5 col cosimo de marco continuiamo la serie ma non l'acquipaggio sub di comba ma stiamo scherzando qui c'è la più grosso facciamola i topi i topi hai preso i topi no ho preso le minuzioni questa la potenza ma questa c'è praticamente quando tutta la potenzia al massimo diventa diventa con le munizioni infinite come funziona no no credo tra le munizioni infinite che cazzo devi fare vabbè io l'impressione che sto gioco è un po corto va vai vai dritto vai esatto questo dovevi far tomba il c'è scattata c'è una piantina qua te l'ha arrivata una botta te l'ha arrivata in testa comunque dopo c'è un tipo kung fu panda dopo guarda ma le sentivo 4 come come gioco come giocabilità è uguale modalità come lo finisci normale ti sblocca l'esperto e io me lo sto giocando ed esperto e dir difficile sì ma non c'è il platino che vale la pena ma io io ce l'ho ma ma che cazzo me ne frega del platino intanto però c'ho quasi 12 platini vieni qua ma che cazzo sprechi sta roba oh ma azzicca ma io azzicca te andiamo vedremo un po' che ne vince un po' che c'è questo ha sbattuto la testa oh aspetta 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 c'è una bomba vai ma rutta la m***a questo freccio cali babà c'è un capposo come ti fatti netto netto ti com'è che ti fatti come un super sandos esatto ma tu ma con queste strade ci vai al mare al mare dove? ma schiavonea dove va? vabbè dici che ci abito guarda chi c'è aspetta aspetta ti faccio fare anche un trofeo aspetta eri morto rupana ti sa che sei morto eh sì spostati vieni da me ma perché me è da sei nemici sì c'è il cane sì ma c'è sto kung fu panda sicurami vuoto oh monte attraversiamo il ponce state attenti perché perché passa un camion dobbiamo farlo esplodere ma non ho più munizioni ho 7 ma da solo soldi porca troia ora un attimo che ricarico il micro ma qua c'è il checkpoint almeno ma qua c'è il checkpoint almeno oh va meno male aspetta aspetta co vieni vieni devo farci ti curi ma è quella rossa non ti serve ah le bombole dobbiamo sparare attengo vai via vai via no no tranquillo non ho paura di queste cose le ho fatte esplodere comba ma che cazzo vuoi comba ma hai capito chi sono io io non ho paura di voi prendi quella piantina e curaci combinala combinala che ti copro io io no non ho più munizioni la prendo io aspetta aspetta dammi l'altra dammi l'altra con il gioco di squadra si risolve sempre tutto vai prendi le munizioni davanti grazie ne ho bisogno proprio prendi tutto prendi tutto vieni qua vieni qua aspetta aspetta qua aspetta qua c'è roba ah ma non dobbiamo dare di là quindi aspetta perché è un bug attento qua giù checkpoint ok tutto quello che abbiamo fatto è salvato scappa 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 via 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 vedo dietro la porta la porta tanta roba ma se comunque erano 3-4 carri li potevamo sparare con la mitragliezza sai come li facevamo buk buk io so il 60% dei trofei c'è qualcosa che viene guarda vai 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 direttamente dritto vai direttamente dritto scappando ma hai chiuso la porta in faccia porca troia ma ci sono trofei di ammazzare dei nemici un tot queste cose qua come nel senso si fai esplodere 30 nemici in una botta sola vabbè però non c'è qualcosa che devi ammazzare dei nemici nemici nello specifico basta qualsiasi nemico quindi si prendo io la piantina ma ce l'hai e mo? ma questo fa un giro ma questo fa un giro ma questo fa un giro mi sa poi lo ho preso pure insieme a te a posto vieni posto sono pieno ho caricato l'arma andiamo allora vieni con me ho anche io una cura quindi automaticamente usa la quadra di bisoglio qua ho trovato pure una piantina rossa eh però usa la tua rossa c'è una chiave qua qua ci abbiamo visto di una chiave qua eh lo so vieni vedo come fai a sapere che c'era la chiave qua scusa oh mio dio ma le balestre le possiamo prendere pure noi no che schifo dai però è una bella la balestra qua e uno dietro via mi apre la porta vieni come salta 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 lascia stare via vai vai scappa dove dobbiamo andare avanti fammi strada Gesù Cristo ho tratto un cazzotto a uno chi è? attento non ho munizioni aiutami vedo dove dobbiamo andare di là ma che cazzo dove cazzo mi prendono sai che l'ho ucciso dai in avanti quello con la freccia andiamo 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 scavalca scavalcato poi segui uh piantino scappa scappa non lo faremo merda uh merda merda comunque troppi mostri hanno messo secondo me hanno aumentato il numero su ps4 numero di platino no il numero di nemici perché ce ne sono tantissimi troppi troppi secondo me eh che cazzo questo qua mi ha aperto la forza pum è arrivato perché non dì che ti ho detto curati oh oh quello è in giampa curati ti ho detto come on come on come on come on ma non lo sto la... questa motosega andiamo avanti Nooo, e mo? Scappare Ma, ma pum Vieni qua, vieni qua Ma io devo salire Eh, hai la scala di lato Te la fai da sola Oh mio dio, sono circondato la nemice Senti, io vengo con te Ah, me l'ha proprio infilzato Vieni, vieni qua No, Corbino davanti, scappo, scappo No, no, mi servi tu vicino Ma io sono morto, sono morto Vabbè, vedi che sta arrivando, sta arrivando Dove sei? Ah, io uso a cosa Non ne ho cure Mi ho dato un altro trofeo salvato Dove cazzo sei? Ok Andiamo andiamo, ce l'ho di scappa, scappa E lasciami stare Scappa la minchia Guarda se si spa Eh, qua vanno uccisi Scappa, scappa, scappa Vai in avanti, vai in avanti 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 Ma proprio usa, usa Quindi come giro, giro, giro Non ti fare colpire Oh, go Ma perché ti fermi sempre, Dio porco Non va niente Baffa il culo Ah, cura Usa la cura Non ho munizioni Eh ma che camicia mi cura questi qua Ma scappa, ma possiamo scappare Vieni qua Vieni qua Vieni qua A posto Non mi sa il culo Io l'abbiamo messo Non ti fermare Non ti fermare Non ti cacare Non ti pisciare Via A corta Quella è un molotov Vieni, 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 vieni A corta le frecce Aia Lo sapevo Passa, passa, passa Veloce Entra, entra, entra Continuiamo a usare il pomba Che dice Io lo userei Oh, go Devi venire il cazzo Di stare vicino a me Quando giochiamo Porca troia Non vuole mai Non vuole mai Sto bastardo di merda Locata dall'altro lato Ma lo occupaggia pure il po' Ah, mo c'è una parte dove ci dividiamo Io vado di là e mi devi coprire Che devo fare io qua? Spiegami un attimo Devi spararmi lì da qua Ah, da qua dove sono io E qua dove ti ho fatto saltare Sì Va bene, faccio Non abbiamo un problema E la mano Non ti vedo C'è l'arcere C'è sto coso dietro di me Il lanciagranate Che La madonna Ti sto uccidendo l'arcere Non ho più munizioni qua Sei solo Tranquillo Come posso venire da te adesso? Io comunque scendo sotto Mi sa che mi devi aprire la porta Qua per questo Eh, per questo è dopo Ma questo qua Ah, eccolo lì Viene la porta, viene la porta qua Viene la porta qua È un attimo che c'è una piantina sotto pure Se la vuoi Vivi di scendare sotto Dovresti andare sotto E aprirmi la porta È un attimo che ci sono Non hai colpi Dai cazzo Lo stiamo perdendo Vai Vieni, vieni, vieni Apri, apri Fermo Vieni, vieni Non sparare qua, eh Eh, sti così Non li sparare Direi, vieni, vieni Vieni, torna dentro Vieni, torna dentro Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni comắpote No, non andare di là Che nu arriva uno con la motosega Di là Se non mi cosa ho preso un'altra piantita se la vuoi Se vieni vicino a me ti cura Ah pure io ne ho un'altra, vieni Te combini tutti e due Ma quanti numeri, da 1 a 10 quanto è difficile Resident Evil 5 da platinare? No è facile, è facile, in due giocando bene si fa Aia! A posto Ancora questo quattro delle copre stai tu Attento adesso L'assassino con la moto, ah quello là che c'è tipo quello stacchetti in faccia con la motosega in mano No, qua è diverso Checkpoint, datamente se c'è poi, non possiamo pure farci su un'unificazione Vediamo No no no, scusi, scusi, io non l'ho mai giocato, fammi vedere i filmati Almeno non era parapposta però Ma se non possiamo scappare, lo devo farci uccidere Dobbiamo farci uccidere Sì, è lui quello con stacchetti in mano, vè Il stacchetto di patate E' lui, ecco Però è bello, mi piace come nemico O ti segui io come si ammazzi Ma non cade per te Ma non si decide Scappa, scappa, scappa Dobbiamo scappare Eh, perché c'è una chiave Ah, c'è la, lui la chiave, c'è la potezza di merda la chiave Vieni dove ti ho detto dove c'hanno le bombolle del gas Ma se c'è questo trucco perché non la faccio di prima Ma è grazie a che lanciarazzi tutto Però i soldi, i soldi volano Ah, non lo puoi, i soldi non te li dà Volano i soldi, diecimila dollari a lanciarazzi, oh Ah, veramente Ah Vico, aperti Mini lingotto Non c'è più niente Ah, mo c'è, dobbiamo, è un video Un filmato che dobbiamo premere dei tasti Ok Ah, e qui time event Però sto capito non finisce più comunque Ah, stai Da quello che ho capito Vai, c'è una piadini, diciamo Non mi cura Una piadina, se c'è una piadina Un posto, andiamo E il video lo puoi pure saltare perché tanto E poi credo dal prossimo capito ci sono Sì Sei capitoli a tre parti Cioè, stiamo scolpando sul gioco Secondo me stasera lo finiamo No, Wesker, vedi che è difficile da uscire Vedi che è quello i colpi degli schiva, eh Ho capito, però Ma che c'è da fare? Paro, sciva Ma sciva si chiamano? Sceva Sceva Sceva, sceva, vabbè Siamo là Ma ancora? Ah, ma mo' c'è una parte bella Il prossimo capitolo Minchia che tasto Non me l'aspettavo questi due tasti Che cazzo ha? Quello delle cover Allora mi hai perdonato Va fan cool Finalmente i rinforzi Se sarebbe tutti i capitoli così Ha finito le munizioni La squadra delle vangarelle è arrivata Bravi amici miei Così si gioca Quindi nel prossimo siamo con l'oro Nel prossimo secondo me Non so se in questo Dobbiamo sparare da una macchina Sì ma siamo con l'oro Praticamente adesso noi Continuiamo a giocare con l'oro Sì Buono Mi piace che siamo in compagnia Almeno abbiamo più possibilità Cioè ma è esperto Cosa cambia? È esperto? Difficilissimo Ah questa è una parte di DLC Ah ma c'è Jill Nel DLC Però quando uno Tipo in questa conversione C'è pure Il DLC Meno male Possiamo giocare Ma il 4 anche di DLC aveva Il 4 Sì Quelli 2 di Ada Ok ragazzi Il capitolo 2 Parte 1 è completato Ci vediamo Ai prossimi episodi Ciao a tutti da Tiger Ciao a tutti